Dopo i casi di positività al Covid, gli insegnanti e alunni registrati nella scuola dell'infanzia di Colleranesco a Giulianova sono stati sottoposti a tamponi diagnostico molecolari gli alunni, il personale docente e quello ATA delle sezioni A e B della scuola. Teste che sono stati effettuati presso il drive-in di Tortoreto nel piazzale dell'antistadio organizzato dalla ASL. A questo screening non hanno preso parte gli scolari e il personale che già sono stati tracciati dal servizio sanitario e che sono in attesa di tampone che attesti la negativizzazione del contagio. Stessa situazione vale per le decine di familiari che hanno contratto il virus attraverso il contatto domestico e che già sono stati segnalati dopo il tampone positivo all'UTAC di Teramo. Un ulteriore screening, forse siamo il comune della Regione d'Abruzzo che ha fatto più screening di tutti. Oggi ci sono un centinaio di nostri cittadini che stanno facendo lo screening per fare l'ennesimo quadro della situazione. Noi cerchiamo tantissimo e quindi ne troviamo tanti. Attualmente a Giulianova i casi attivi sono circa 300. Stiamo facendo un conto totale. Siamo tra i pochissimi comuni, nonostante qualche forza politica continui a ironizzare su questo. Siamo tra i pochissimi comuni che comunichiamo ogni tre giorni nuovi casi. In questo momento siamo curiosi di sapere anche cosa accade nei comuni limitrofi perché screening non vengono fatti. Noi siamo appunto tra i pochissimi comuni che li fanno con cadenza periodica e diamo rassicurazione alla cittadinanza perché sapete meglio di me che in questo momento la rassicurazione è scoprirli nel minor tempo possibile, plagare i focolai, tentare di mettere le classi in dad come stanno accadendo in tanti comuni della riviera triatica. Il coronavirus è comunque un cerco influenzale che ha il suo picco nel mese di febbraio e quindi sappiamo che questo è un mese complicato. Cercheremo di lavorare al meglio e di abbassare la percentuale del rischio.